so che questa sera siete pieni di aspettative, quanti si aspettano che il pastore ha un culto sovranaturale per voi dia alla persona che accanto a te ti stai sbagliando perché non predicherà il pastore ma predicherà il diacolo Umberto alleluia beh buonasera a tutti buonasera a tutti che te ne vai pastore chi si aspettava il pastore questa sera tutti è una notizia che a me è arrivata solo ieri il signore mi ha messo delle cose nel cuore proprio questo pomeriggio quindi inizierò a parlare sarà una tematica che riguarda comunque non solo la fede ma anche la famiglia marito e moglie figli fede ma anche le problematiche che la famiglia comunque è costretta ad affrontare giorno per giorno adesso stiamo aspettando un attimo nel nome di gesù perfetto allora voglio iniziare dalla lettera di giacomo è il primo capitolo dal verso 2 fratelli miei considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate ora qui praticamente l'apostolo a chi si sta rivolgendo a persone in generale o persone particolari chiaramente si a credenti quindi alle chiese quindi quando quando qualcuno si converte quando qualcuno comincia a credere nel signore magari all'inizio comincia a pensare io credo nel signore il signore è al mio fianco non temo a niente non mi succede niente beh niente di più sbagliato perché siamo sì siamo nel signore il signore è con noi ma noi come tutti gli altri dobbiamo affrontare delle prove tanto per ricordare Paolo è stato lapidato due volte io sto parlando dell'apostolo Paolo non sto parlando di uno qualsiasi un picco pallino Paolo è stato lapidato due volte una volta è stato dato addirittura per morto ha fatto naufragio è stato battuto 39 volte quindi come vedete la vita del cristiano non è esente da prove possono essere prove fisiche ospedali cose eccetera prove psicologiche e problemi vari vogliamo andare un attimo avanti? sì sapendo che la prova a questo punto ecco la differenza qui qui praticamente Paolo dice la prova della vostra fede produce costanza costanza in che cosa? e soprattutto la prova della vostra fede la fede viene provata quindi sono delle prove e che cos'è fede? quando noi diciamo fede sì io ho fede che significa che io ho fede? allora la parola di Dio cosa dice della fede? fede è certezza di cose che si sperano certezza di cose che si sperano e la seconda parte è non meno importante della prima è dimostrazione di realtà che non si vedono allora fede è certezza di cose che si sperano quindi io sono sicuro quindi per dire che io ho fede devo essere sicuro sicuro in ciò che sto sperando nel Signore quando mi viene una prova la prova ti può pure schiacciare ma quando noi abbiamo quella certezza che il Signore è al nostro fianco noi possiamo affrontare prove terribili pensate un attimo ai primi martiri pensate alla alla a Nerone quando dopo aver incendiato Roma diede la colpa ai cristiani sappiate che per una settimana Roma fu illuminata da delle croci su cui erano appesi dei cristiani a cui erano stato versato dell'olio ed erano stati bruciati vivi pensate solo a questo ora fede hanno dimostrato fede o coloro che erano sbranati uccisi per divertimento nel nel circo massimo quella è fede quindi fede è certezza in qualcosa che speravano qualcosa che si spera noi non la vediamo sul momento però poi abbiamo la dimostrazione di una realtà che prima non vedevamo abbiamo la dimostrazione di una realtà un esempio che voglio fare di un pastore sudcoreano che si chiama yang ju cho se non erro è un pastore molto famoso perché il signore si è servito spesso anzi spessissimo per guarigioni ed altro e lui racconta che quando era appena finita la guerra di Corea tra il nord e sud Corea quindi c'era un'estrema povertà e lui aveva forse 17 anni si ammalò gravemente di tubercolosi fu portato in ospedale i genitori vendettero tutto quel poco che avevano per portarlo in ospedale e lì chiedero ci fa poche speranze e si presentò a lui una una sorella cristiana che disse io voglio pregare per te lui l'ha trattata male la prima volta la seconda volta ma questa sorella ha continuato ad andare ha continuato ad andare non sappiamo perché ma è continuata ad andare nonostante trattata malissimo l'ultima volta disse vabbè insomma parla ti ascolto questa sorella parlò parlò dell'amore di Cristo per lui per tutti coloro che credono in lui e quindi ottengono la salvezza lui ha creduto ha ringraziato la sorella non è più tornata qualche giorno dopo lui si è alzato dal letto completamente guarito e ha cominciato a predicare Cristo come vedete una sorella di cui lui non conosce il nome probabilmente neanche quella sorella sa chi era quest'uomo non lo sapeva non si sa lui ha cominciato a predicare quindi camminava per strada si allontanava e predicava Cristo si allontanava o a un certo punto chiese al signore si disse signore dammi una mano voglio fare di più è possibile mi dai una bicicletta non ha chiesto neanche un motorino una bicicletta erano poverissimi insomma uscivano da una guerra piuttosto pesante e e disse signore dammi una bicicletta almeno posso posso allontanarmi posso fare di più però a distanza di mesi pregando pregando questa bicicletta non arrivava e una sera pregando dice signore ma insomma te l'ho chiesta non mi hai dato che insomma e senti nel cuore del signore che gli diceva tu mi hai chiesto una bicicletta ma non mi hai detto che bicicletta vuoi ha detto beh se è così allora la voglio nera con le marce e deve essere di marca americana tempo forse qualche settimana un missionario americano deve ripartire e tornare negli Stati Uniti e gli lascia la sua bicicletta gliela dona era nera era di marca americana ed era con le marce captato la faccenda captata la faccenda dice beh alziamo un po' la posta signore io devo prepararmi i sermoni a terra non c'ho neanche una sedia ho appena un giaciglio a terra non c'ho niente che ne diresti se mi dai un mobiletto giusto per scrivere una sedia memore della prima volta dice veramente lo gradirei fatto in questa maniera in questa maniera di questo legno e lui ne parlò allora ne parlò in chiesa una piccola chiesetta ormai c'era poca gente che andava a sentirlo e c'era qualcuno che lo prendeva in giro perché dice ce lo fai vedere sto mobiletto dice beh vabbè insomma ancora non è arrivato e lui ogni tanto la sedia signore ma io come faccio mica li posso portare a casa non c'è risultato a distanza di un mese gli arriva esattamente il mobiletto così come lui l'aveva descritto al signore la sua chiesa oggi è andata avanti quindi dai primi anni 50 quindi dal 56 in poi e adesso questa chiesa conta qualcosa come un milione di di fedeli la Corea del Sud è forse un paese che proprio sta esplodendo dal punto di vista cristiano le chiese sono aperte giorno e notte e c'è gente che fa veglia e notturne non perché qualcuno gli dice va lì e prega punto non gli interessa nient'altro ora tornando al fatto della fede quindi fede e certezza quindi di qualcosa che noi chiediamo secondo la volontà del signore è chiaro che se io vado a chiedere al signore signore io vorrei mettere il dito nella presa di corrente però tu non mi devi far fare niente oppure signore io voglio farmi un giro in macchina e voglio andare a 200 all'ora e non mi deve succedere niente insomma la scelta è mia io mi posso pure andare a schiantare cioè il signore dice oh tu l'hai fatto io mica ti ho detto di andare a 200 quindi dipende da ciò che chiedo se nella sua volontà spesso e volentieri però la nostra carnalità il come noi siamo dentro come siamo stati non solo educati ma anche per quanto riguarda la vita che abbiamo fatto fuori gli studi la famiglia quello che ci è stato insegnato oppure le esperienze che abbiamo fatto queste hanno hanno messo qualcosa dentro di noi sono stati come dei piccoli timbri questi timbri non è che rimangono lì isolati ma hanno un impatto sui nostri pensieri e su come noi ci muoviamo oggi e questo è importante capirlo perché perché la parola di Dio dice anche rinnovate la vostra mente come la rinnoviamo la nostra mente allora quando noi crediamo quando noi crediamo in Cristo come nostro Signore Salvatore come colui che ci ha dato la vita e dimentichiamo che ci ha dato la vita in abbondanza non una vita qualsiasi vita in abbondanza siamo noi che nella nostra caronalità limitiamo l'attività di Cristo nella nostra vita spesso e volentieri diciamo ci manteniamo proprio bassi come diceva il pastore la falsa umiltà sai meglio non esagerare no come figlio di Dio esageriamo ricordiamo ricordiamo la parabola del figlio del prodigo no quando quando il figlio del prodigo torna non è il figlio del prodigo che corre verso il padre è il padre che lo vede da lontano e li corre incontro e lo abbraccia subito la prima cosa che fa è lo abbraccia subito il figlio del prodigo si dice signore si padre ho peccato ho peccato contro il te ma il padre già l'aveva l'aveva abbracciato cosa succede che il padre lui gli dice mettimi fra i tuoi servi ce l'ho fatta proprio grossa mettimi fra i tuoi servi se sto là no lui che fa gli dà vestiti nuovi gli anelli e calzari nuovi che significano questi questi sono simboli ovviamente ma questi sono simboli importanti primo i calzari gli schiavi non hanno calzari all'epoca non ce li avevano andavano a piedi nudi quindi avere i calzari significa una persona che può permetterselo quindi una persona importante la tunica immaginate la tunica una delle tuniche del padrone che significa eh significa è l'ultimo è l'anello l'anello è l'appartenenza alla famiglia cioè sapete una volta quando si quando si scriveva un atto per dargli valore un valore potente si prendeva l'anello e con l'anello si dava il sigillo quel sigillo era importantissimo e anche per il signore noi apparteniamo a lui in qualche modo e noi siamo il suo sigillo noi siamo il suo sigillo quindi noi possiamo chiedere al signore dobbiamo chiedere al signore è il nostro il nostro padre non dobbiamo limitarci e ne possiamo fare sempre la stessa identica cosa signore mi dispiace è un po' adesso scusatemi se lo dico ma ci hanno abituati ad una condizione di di stare sempre inginocchiati perdono perdono mea culpa mea culpa eccetera eccetera e questo ci mette in una situazione di sudditanza di che il signore Gesù questo il signore Gesù non l'ha messo il signore Gesù una volta si è si è messo in ginocchio lì proprio nel giardino del Getsemani lì è stato il momento più duro più pesante per lui perché sapeva quello che stava che doveva affrontare ma lo sapeva perché lo faceva per noi ora spesso e volentieri e a questo punto voglio inserire un attimino quello che si chiama è il rapporto tra marito e moglie ecco in questo caso meglio marito e moglie noi siamo stati fatti create immagini di Dio noi sappiamo anche che il signore ha creato prima Adamo e poi ha creato Eva da una parte di Adamo si dice da una costola ora il signore ha anche creato la famiglia perché ha dato all'uomo quell'aiuto che viene definito nella parola di Dio viene definito come aiuto convenevole non è solo un aiuto non è solo quello pensate un attimo questa l'ho avuta poco fa è una costola dell'uomo la donna è parte cioè questo spesso lo dimentichiamo i maschietti spesso dimenticano che la donna la parte femminile è parte dell'uomo è parte dell'uomo cioè non è una cosa scevra cioè non è una cosa che viene come si dice accucchiata no? è praticamente la stessa cosa è uno ecco perché Gesù dicendo che l'uomo lascia la propria casa lascia il padre e la madre si unisce alla propria moglie e diventano una sola carne questo è importante una sola carne certo i primi tempi il cosiddetto innamoramento sono tempi uno dice ma è bellissimo come era prima no? cioè adesso siamo tutti stati innamorati no? siamo tutti un po' ci ricordiamo il pastore ha detto poco fa farfalline nello stomaco no? dice telefonate a ogni ora amore come stai come non stai chiudi tu non chiudo io no io non chiudo chiudi tu amore ma io sto in consiglio di amministrazione ti prego siamo in viva voce che figura ci faccio ora l'amore è è anche una questione di ormoni è una questione di ormoni che vanno al cervello e mettono in uno stato di sono gli ormoni che ti danno la calma che ti danno quella tranquillità quella pace il piacere diciamo quelli sono gli ormoni del piacere non ricordo se la serotonina ma penso sia quello però ecco i primi tempi non ti dà fastidio se magari il compagno o la compagna si scaccola non ti dà fastidio se magari sputacchia per terra se fa qualcosa nella doccia che non dovrebbe fare questo è specialmente i maschietti ma passato il primo periodo gli ormoni il cervello si abitua il cervello si abitua e quindi l'effetto di questi ormoni cala e calando l'effetto di questi ormoni viene fuori questa cosa mi dà fastidio quest'altra cosa che prima non mi dava fastidio adesso mi dà fastidio ma mi dà proprio fastidio e cominciano i problemi ora che cosa voglio dire voglio dire che noi dobbiamo quando si fa una scelta si fa una scelta che deve essere una scelta ponderata deve essere una scelta pensata e non seguendo quelli che sono quelli che noi definiamo i sentimenti allora noi siamo a immagine di Dio detto poco fa in che senso siamo esseri trinitari cioè abbiamo un corpo un'anima e uno spirito quando noi quando noi ci convertiamo a Cristo e di un colpo solo la parte nostra spirituale lo spirito viene immediatamente rinnovata subito viene ripulita e riempita dello spirito santo però dobbiamo sempre nutrire questa parte come? con la parola di Dio lettura della parola di Dio ma non solo la lettura perché uno può leggere può ascoltare ma la parola entra di qua e esce di qua perché comunque non mi piace quello che dice non mi piace faccio un esempio questo non piace alla parte femminile nella parola è scritto donne ubbidite i vostri uomini sottomettete i vostri uomini e cioè questa è la parola sottomissione non piace a nessuno ma non piace a nessuno è inutile diciamoci la cosa però dimentichiamo poi sempre di aggiungere la seconda parte che è invece uomini amate mariti amate le vostre mogli come il vostro stesso corpo cioè io non credo che ci sia un marito che prende un coltello e si taglia un braccio non credo che gli faccia piacere quindi queste due cose vanno insieme queste due cose vanno insieme allora tornando agli esseri trinitari la parte che comunque viene rinnovata abbiamo detto è lo spirito che viene comunque nutrito con la parola di Dio però c'è una parte ancora di noi che non è stata ancora rinnovata e questa è la parte appunto del nostro cuore il nostro cuore e se non è Geremia scusami è giusto per era Geremia vedi un po' allora il cuore questo lo dice Geremia apostolo il profeta Geremia il cuore è ingannevole il cuore è ingannevole quindi torniamo al fatto di prima degli ormoni che poi non hanno più effetto il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno chi potrà conoscerlo solo il Signore allora il nostro cuore una volta convertiti non è che è convertito perché se noi mettiamo seconda corinzi mi pare guardate cosa c'è scritto no queste seconda se dunque uno è in Cristo sì ok guardate se dunque uno è in Cristo quindi noi ci siamo convertiti consideriamo il Signore il nostro Salvatore eccetera allora se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie ormai sono passate e sono diventate nuove cioè siamo tutti nuovi siamo tutti a posto verso 20 due versi dopo tre versi dopo noi dunque facciamo ad ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro attenzione vi supplichiamo nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio ma come due versi prima siamo creature nuove siamo tutti a posto stiamo con il Signore e due versi versi dopo siate riconciliati con Dio come la mettiamo? perché la nostra parte quella parte del cuore è quella che definiamo la parte carnale è quella che ha desideri e pensieri che come dicevo prima ciò che abbiamo imparato ciò che ci è stato insegnato hanno messo dei timbri che ci ci muovono ci fanno pensare e agire in un certo modo invece la parola di Dio ed è quella che ha effetto adesso piano piano giorno per giorno perché quando diciamo che il nostro cuore Dio ci toglie il cuore di pietra e ci mette il cuore di carne non avviene in un colpo questo avviene nel tempo e durante la nostra vita è il nostro cuore che viene rinnovato dalla parola di Dio e inoltre siate riconciliati con Dio molto spesso dimentichiamo che una delle cose più importanti e fondamentali quando siamo con Cristo la prima cosa è l'abbandonare il rancore o soprattutto quando c'è qualcuno che non ha o non è riuscito ancora a perdonare di cuore questa è una cosa molto importante il perdono di cuore perdono di cuore significa non cancellare ciò che c'è stato perché non è possibile cancellare ciò che è avvenuto però possiamo passarci sopra possiamo cioè fare in modo di metterlo diciamo da un canto e dire questa cosa non mi fa più male è passata non ha più alcun valore lo metto nelle tue mani signore allora noi mettiamo al primo posto a questo punto noi mettiamo e cambia e cambia la posizione noi mettiamo al primo posto il signore e l'amore che lui ha per noi è noi è noi che non possiamo avere lo stesso amore per lui ma perché il nostro è un amore molto limitato anche per questa questione carnale nostra per tutti questi problemi nostri che pian piano noi dovremo affrontare ecco perché torniamo di nuovo alla lettera di Giacomo alle varie prove in qualche modo ci sono delle situazioni nella nostra vita che ci hanno segnato è come se sono delle cicatrici nel nostro cuore ora non è che il signore sta tutte guarite qualche volta può capitare sì qualche volta può capitare però vengono sanate una per una e ma devi affrontarla la situazione cioè il signore ti mette in una condizione a volte per cui tu devi prendere una decisione è quella decisione e la cosa migliore è prenderla sempre secondo la parola di Dio allora quando tu la prendi secondo la parola di Dio tu sei sicura che quella cosa va bene si risolve cioè se c'è quella persona che tu non sei riuscito a perdonare o comunque anche dall'altra parte non c'è metti nelle mani di Dio arriverà il momento in cui il signore ti metterà in una condizione particolare e metterà quella persona nella condizione psicologica particolare per cui tu sarai portata a poter risolvere quel problema che prima non riuscivi a risolvere questa è anche fede perché se tu non lo vedi adesso hai la certezza comunque che il signore lo farà questo è l'amore di Dio questo è l'amore di Dio ed è il primo nel rapporto fra uomo e donna fra marito e moglie soprattutto è l'amore per Dio che deve essere al primo posto perché quando tu ami Dio e sai che per esempio ecco l'esempio che io vorrei fare spesso si lavora in chiesa anche il servizio d'accoglienza la diaconia la pulizia anche il mixer qualsiasi cosa sono piccole cose che si fanno in chiesa ma io vi dico una cosa che i più grandi pastori sapete come hanno iniziato la loro attività in chiesa? Pulendo i bagni pulendo i bagni il pastore Martin Cadì che è stato qui forse un mesetto qualche mese fa insomma lui racconta una volta che lasciò il rugby era un giocatore abbastanza famoso di rugby in America lasciò il suo lavoro per dedicarsi a Cristo e quindi andò a frequentare questa scuola biblica e la prima cosa che fece sapete cosa fu? secchio e ramazza a pulire i bagni e disse che era una una scuola biblica grandissima quindi i bagni erano quasi un centinaio non so se quindi nessun lavoro è come dire umiliante quando si viene fatto per il Signore e questo lo dobbiamo portare quindi non solo dalla chiesa lo dobbiamo portare fuori non c'è niente di umiliante nel servire gli altri allora qui io posso stare in questo momento su questo pulpito ma io sono qua per servire voi l'esempio l'esempio più bello se vogliamo è che durante l'ultima cena il Signore cosa disse agli apostoli siete già puri per la parola perché conoscete la parola siete già puri vi manca un'ultima cosa e allora lui si si cinse e lavò i piedi a tutti cioè lui che era il Signore è diventato servitore di tutti gli apostoli questo è quello che dobbiamo dobbiamo fare nella nostra vita questo è l'esempio forse più bello che per esempio un marito può fare una moglie servire la moglie aiutare la moglie spesso e volentieri onestamente noi maschietti in effetti sorvoliamo non guardiamo con attenzione quelli che sono diciamo i pesi i pesi che la nostra compagna sta portando spesso non li vediamo però è bene insomma vedere questi pesi cercare di comprenderli e quantomeno cercare di dare una mano questa sarebbe la cosa migliore è l'esempio più bello che può dare un marito alla propria moglie va bene ok spero di non avervi annoiato troppo adesso lascio la parola al nostro pastore gloria a Dio sempre amén amén ho detto amén bene mentre la la regia si prepara vogliamo metterci in piedi vogliamo creare la nostra atmosfera perché mentre stavo ascoltando non so a voi non so a voi non so a voi non so a voi Grazie a tutti